Ci sono degli intrecci che sono veramente inquietanti e a rimetterci non sono stati i dirigenti delle banche, non sono state chi non ha controllato le banche, sono stati i risparmiatori per quanto riguarda soprattutto le quattro banche perché è verissimo che per MPS c'è stato un trattamento diverso. Io credo che i risparmiatori truffati debbano essere eserciti e credo che chi ha utilizzato i soldi di quei risparmiatori per prendere milioni di euro, addirittura vedo ma 14 milioni spariti da una parte, che uno si è intascato e non ha mai ridato, 500 milioni dall'altro, milioni di debito per esempio della sorgenia di De Benedetti che improvvisamente diminuiscono perché viene ristrutturato il debito. Io voglio chiedere a un cittadino normale che magari deve 10 mila euro alla banca, qualcuno gli dice ristrutturiamo il debito mede dai mille invece che 10 mila? Non mi lo domando perché De Benedetti con 600 milioni sì?